ciao eccomi di nuovo qua a cercare di passare un pochettino di tempo con voi consigliandovi qualche attività di manutenzione da fare sul vostro cancello automatico non è l'attività più divertente del mondo ma questo io faccio di mestiere e quindi solo di questo mi sento di parlare diciamo con una certa sicurezza allora nei video precedenti abbiamo visto come verificare diciamo che se abbiamo una perdita su un operatore oleodinamico abbiamo visto come pulire le cassette di fondazione degli operatori interrati e oggi voglio parlarvi di un accessorio generale che su tutti i cancelli che viene trascurato e che invece io e noi di Segema diciamo abbiamo fatto talmente tanti video talmente tanti articoli su questo argomento che probabilmente google cambierà il nome di questo oggetto che è il lampeggiante in Segema e devo dire che abbiamo una discreta risposta perché i nostri lampeggianti universali sono tra i più venduti e anche tra tra quelli più apprezzati allora il lampeggiante viene da tutti sottovalutato perché non viene reputato né un oggetto di sicurezza né di comfort niente però se voi pensate che la prima operazione quando aprite un cancello col telecomando è guardare il lampeggiante addirittura per molte persone puntare il radiocomando come se fosse un telecomando della tv verso il lampeggiante capite bene che il feedback che si aspetta l'occhio è che il lampeggiante inizi a lampeggiare che inizi a lampeggiare non che rimanga fisso perché una luce fissa accesa non attira la nostra attenzione per questo sulle autoambulanze ci sono le sirene che lampeggiano altrimenti ci sarebbero delle luci accese fisse non solo sulle ambulanze anche sulle macchine delle forze dell'ordine o su qualsiasi cosa deve richiamare un pochettino la nostra attenzione normalmente lampeggia quindi anche se il nostro lampeggiante è acceso fisso è guasto va sostituito ok e quindi quello che vi dico è se avete un problema esistono sul nostro sito le trovate alla fine di questo video vedrete l'oggetto delle schede universali a led alta efficienza garantite 5 anni che durano 50 mila volte più di una lampadina incandescenza un piccolo investimento iniziale di più per tenervi in qualcosa che vi rimarrà sostanzialmente per tutta la vita e che funzionerà sempre al massimo delle sue potenzialità non scenderà mai l'efficienza del led come può succedere con una lampadina da incandescenza e niente per quanto riguarda il lampeggiante mi fermo qui ciao al prossimo video come sempre ti ricordo che se i nostri video ti sono utili puoi mettere mi piace sotto e iscriverti al nostro canale